Sei l'ultimo arrivato in casa a Forlì, raccontaci innanzitutto la tua stagione scorsa e quali sono i propositi per la nuova. Ciao a tutti, la scorsa stagione è stata una stagione che ho disputato al sud, a Fondi, e diciamo individualmente è nata abbastanza bene, tanto è vero che sono riuscito ad arrivare a una piazza così importante come Forlì e spero che quest'anno sia un anno entusiasmante, vedo che c'è molta felicità nella squadra, nello staff, e quindi saranno anni importanti sia individualmente che per i Tigers Forlì. Ecco, tu porti appunto un cognome molto pesante, come stai fisicamente adesso in primi giorni a preparazione? Sì, diciamo che Myers a Forlì è un cognome molto pesante, però io sono qui per dare il mio meglio e farò di tutto. Fisicamente qualche acciacco si comincia a sentire, perché cominciamo con un po' di problemucci, però si va avanti e grazie al preparatore atletico Stefano Elia andrà tutto per il meglio. Ecco, cosa vuoi dire ai tifosi in vista della prima di campionato? Di venirti a seguire con molto entusiasmo, di seguirci e di fare molto molto tifo, perché sicuramente sarà un anno che ci sarà da divertirsi. Grazie.